Il mio motto è quello di provarci sempre, non arrendersi mai, senza fretta ma senza sosta, aurea mediocritas, chi sa fare sa capire, vivi e lascia vivere, che bisogna sempre perseverare e mai arrendersi. L'entusiasmo è il parametro più importante per capire quanto ci fa bene una scelta. Se non hai mai commesso un errore, non hai mai provato un e non hai mai commesso un errore.